Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island, rischia la squalifica dal grande fratello prima ancora dell'inizio del reality. Le polemiche sono scoppiate quando è stato annunciato come concorrente con accuse di insulti pesanti all'influencer Enzo Bambolina. Giuliano si è scusato per le sue parole omofobe sui social, ma Alfonso Signorini sembra essere furioso. Enzo Bambolina ha scherzato sulle doti da Latin lover di Lino, ammettendo di essere stato anche con lui, scatenando una serie di insulti omofobi da parte dell'ex concorrente di Temptation Island. Giuliano ha chiesto scusa sottolineando di essere stato provocato e difendendo la sua famiglia. Nonostante le scuse, Alfonso Signorini è infuriato con Lino Giuliano. Il conduttore del grande fratello si è dissociato dalle azioni dell'ex concorrente e sembra essere molto arrabbiato. Giuliano ha anche denunciato Enzo Bambolina per diffamazione. Io, ma non sembra che la squalifica sia imminente. In tutto questo Giuliano si è difeso dicendo di avere molti amici gay e di considerarli persone squisite. La situazione resta tesa con polemiche accuse che potrebbero compromettere la partecipazione di Giuliano al grande fratello. Resta da vedere come evolverà la situazione e se le scuse saranno sufficienti.